Inventare Ops è stata l'unione di due passioni, quella di Croce Rossa coltivata per amore diciamo da parte trasmesso in famiglia, quindi fino a quando ero bambino si respirava aria di Croce Rossa e il mondo dell'acqua avendo praticato sport a livello agonistico come palla nuoto. Negli anni ci sono state diverse situazioni in cui ci siamo trovati ad operare e forse quello più particolare è stato durante un'assistenza ad una manifestazione velica, siamo imbattuti per caso, un signore che stava praticando sport con moto d'acqua, quindi stava girando con la sua moto d'acqua, ha avuto una lussazione della spalla quindi non riusciva a rientrare, non aveva radio, non aveva telefono, l'unico punto di soccorso che ha riuscito a trovare con un pochino di fortuna è stato appunto il gommone di Croce Rossa che in quel momento era un'assistenza e da una situazione che poteva diventare critica di un, in quel momento un naufrago di fatto perché non era impossibilitato ad arrivare a terra, è stato trattato, trasportato e dato in carico al soccorso avanzato.